Alla Regione lavori in corso sulla finanziaria, in commissione bocciato anche dalla maggioranza il reddito minimo. Crocetta tratta con le opposizioni. Dario Piparo. Si lavora sulla finanziaria, ma la notizia è una bocciatura. Crocetta dice addio alla sua proposta riguardante il reddito minimo per i disoccupati. Non tutti ovviamente, ma l'idea era quella di contribuire alle famiglie con dichiarazione di reddito inferiore ai 5.000 euro, con un sussidio volto a raggiungere proprio questa soia. Una previsione indirizzata anche all'inserimento graduale all'interno del lavoro e di servizi sociali. Il tutto alla stregua di un investimento di circa 62 milioni di euro. Insomma tutto saltato al vaglio della commissione sanità presieduta dal cuperliano Pippo Di Giacomo e che conta la presenza anche di due grigentini, Vincenzo Fontana e Calogero Firetto. E proprio in questa sede la norma è stata riscritta sulla base di diverse agevolazioni sussidiarie. Abbiamo pensato una norma che in maniera veloce e concreta vada incontro ai bisogni delle fasce deboli, dice Di Giacomo, su cui il governo invece ha proposto di intervenire con un sussidio transitorio certamente non in grado di rimuovere le condizioni di povertà. Quindi una misura che Di Giacomo individua come non incisiva e sostituita con un'altra. L'abbattimento del ticket per la specialistica e la farmaceutica in favore dei nuclei familiari con reddito anno complessivo inferiore a 50 mila euro. Quindi quando la manovra a terra verrà approvata, e a questo punto se verrà approvata, l'assessorato per la salute avrà 60 giorni per emanare il decreto. Ma in tutto questo il dato è certo. La proposta di Crocette è stata bocciata da quella che avrebbe dovuto essere la sua maggioranza, cioè il Partito Democratico. La controversia tra il presidente e l'area cuperliana è sempre viva, il che potrà portare a un esame della manovra complicatissimo, ma soprattutto a un'approvazione ancora più travagliata. Intanto si è chiuso il primo bando delle ZFU, acronimo che sta per Zone Franche Urbane, che prevedeva l'accesso a franchigie e agevolazioni varie per circa 7 mila piccole imprese. Crocetta propone la città francese di Marsiglia come modello di sviluppo dal basso, basato su sostegni sociali e allentamento della pressione fiscale. Non a caso il dispositivo della ZFU nasce proprio in Francia e si basa sullo sgravio fiscale per quelle imprese delle aree individuate come degradate, progetto che potrebbe essere riproposto con il governo regionale che intende estenderlo ad aree precedentemente non inserite, agevolazioni che saranno quindi già attive dal 2014 e riproposte all'interno della programmazione dei fondi comunitari del prossimo ciclo.